buongiorno a tutti da valerio villa da metropolis immobiliare vi do con piacere il benvenuto in questo nuovo video come vedete stiamo caricando si può dire giornalmente nuovi contenuti sul nostro canale youtube perché sempre più proprietari si stanno affidando a noi e quindi alla metropolis immobiliare per la vendita o la locazione della loro proprietà quindi anche se avete anche voi appunto un immobile da mettere in locazione o da vendere non esitate a contattarci e a venirci a trovare nei nostri bellissimi uffici in via cantonale 43 a manno e ovviamente siamo a vostra completa disposizione l'oggetto che vi presenterò oggi è un meraviglioso quattro e mezzo locali di circa 128 metri quadrati ubicato al quarto piano di una palazzina di soli sei piani moderna edificata nel 2007 nel comune appunto di agno in posizione molto strategica e ben servita e quindi iniziamo con la presentazione dell'immobile di oggi questo è uno spazioso e luminoso appartamento di quattro e mezzo locali come dicevo situato al quarto piano è un appartamento che si struttura con un bell'ingresso che accoglie un pratico armadio a muro a due ante mentre la moderna cucina abitabile è completamente attrezzata con forno frigorifero congelatore piano di cottura in vetro ceramica e lavastoviglie la zona living e quindi la zona pranzo è ampia e luminosa grazie alle grandi vetrate che conducono alla stupenda terrazza un vero e proprio angolo di paradiso per il soggiorno estivo il solarium e la zona relax dopo aver visto qualche immagine di questa bellissima e ampia zona giorno dotata anche di questo grande terrazzo passiamo alla zona notte che è strutturata con una camera matrimoniale principale dalla quale si accede anche alla terrazza è una camera spaziosa e luminosa e dispone di un bagno en suite finestrato completo di vasca doccia wc e bidet quindi veramente una camera master davvero importante poi un piccolo corridoio conduce alle altre due camere singole e al secondo bagno quindi abbiamo una prima camera singola quindi di buone dimensioni una seconda camera singola e appunto un secondo bagno finestrato con doccia e wc quindi anche in questo caso una zona notte molto accogliente che costituisce una configurazione appunto 4 e mezzo locali questo appartamento offre una soluzione sobria e in ottimo stato come vedete dalle immagini ideale per chi desidera vivere in un contesto tranquillo e comodo quindi un appartamento 4 e mezzo locali veramente stupendo come vedete come avete visto appunto di grandi dimensioni circa 128 metri quadrati con questa bellissima terrazza ubicato al quarto piano è un appartamento edificato nel 2007 come dicevo all'inizio del video quindi ideale per coloro che cercano un bel 4 e mezzo generoso luminoso in una posizione strategica nel comune di agno quindi vicina a tutti i principali servizi nella descrizione proprio qui sotto vi lascio tutti i dettagli nel caso in cui vogliate approfondire così da avere tutte le informazioni dettagliate un descrittivo completo e sempre qui sotto in descrizione vi lascio anche il link per poter accedere alla scheda di questo immobile direttamente all'interno del nostro sito per approfondire tutti i dettagli e il prezzo di vendita quindi non esitate ovviamente a contattarci tramite il numero di telefono che vi lascio qui sotto o il sito metropolis immobiliare.com nel caso in cui desideriate un appuntamento per questo immobile o per essere messi in contatto con un consulente al fine di approfondire la proposta io prima di salutarvi vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale youtube che sta crescendo tantissimo come dicevo sempre più proprietari si stanno affidando a noi per mettere in vendita in locazione la loro unità immobiliare quindi se avete questa necessità non esitate a contattarci e a venirci a trovare in via cantonale 43 a manno nei nostri bellissimi uffici per una consulenza gratuita e senza impegno io quindi vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi nella visita di questo bellissimo 4 e mezzo locali ad agno vi auguro una meravigliosa giornata e ci vediamo come sempre al prossimo video